Caramelle di pasta all'uovo colorata con un ripieno di ricotta e spinaci. Impastiamo 200 g di farina, 2 uova e 50 g di barbabietola frullata. Dovremo ottenere un composto morbido e ben amalgamato che avvolgeremo con pellicola e faremo riposare in frigorifero. Ora prepariamo la farcitura con ricotta, spinaci lessati e strizzati, parmigiano, sale e pepe. Stendiamo l'impasto in una sfoglia sottile, su un piano da lavoro ben infarinato. Ritagliamo delle strisce di impasto larghe circa 8 cm, distribuiamo la farcitura, bagniamo il contorno con l'acqua e richiudiamo. Sigilliamo bene i bordi e facciamo uscire tutta l'aria. Otterremo così dei ravioli leggermente allungati, che poi trasformeremo in caramelle. Originali, non credete? Le cuociamo per qualche minuto in acqua bollente salata e voilà! Amici di Molto Food, che ne pensate?